ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video voglio parlarvi di questa fantastica tastiera da gaming di corsair k 60 rgb pro compatibile con pc mac e xbox one è una tastiera meccanica al cento per cento quindi non è a membrana non è semi meccanica come si dice membra meccanica ma è completamente meccanica sentite gli switch sono meccanici al cento per cento parto subito con una nota dolente probabilmente l'unica di questa tastiera l'assenza del poggiapolsi io sono un tipo che utilizza i poggiapolsi purtroppo questa tastiera non ce li ha i poggiapolsi ma potete sempre acquistarne uno su amazon e quindi esterno e collegarlo in un secondo momento detto questo la tastiera è compatta ma ha un certo peso realizzato in alluminio a differenza della solita plasticaccia che di solito viene utilizzata nelle tastiere compatte la tastiera di corsair è pesante vi posso assicurare che è pesante non eccessivamente ma lo è resistente e comoda da utilizzare come vedete ora sono alla luce del giorno quindi non so se rende l'idea ma presenta dei led rgb che possono essere personalizzati con il software di corsair come con tutte le altre periferiche del resto quindi potete avere un led fisso dinamico un effetto particolare come in questo caso vedete quindi potete personalizzare la tastiera secondo le vostre esigenze se magari avete un pc da gaming che utilizza led verdi potete fare la tastiera verde se avete un pc da gaming con led tipo discoteca potete fare un effetto discoteca e così via dicendo la tastiera come vedete non presente classici tasti che possono essere programmati è una tastiera molto molto semplice da gaming per coloro che cercano appunto semplicità ma qualità sulla diciamo parte superiore dove sono presenti i tasti f1 f2 eccetera vi è la possibilità di controllare i led della tastiera regolare il volume e così via dicendo quindi diciamo corsair ha optato per questa soluzione invece magari di proporre ulteriori tasti per rendere la tastiera più ingombrante solo per controllare questo aspetto infatti mantenendo premuto fn e poi il tasto diciamo corrispondente potete insomma utilizzare queste funzionalità la tastiera è con il cavo non è wireless non è bluetooth quindi non va ricaricata la collegate grazie alla tecnologia plug and play potete utilizzarla fin da subito sia su pc sia su mac che addirittura su xbox one perché xbox one da qualche tempo a questa parte supporta le tastiere non con tutti i giochi ma insomma con alcuni giochi avete la possibilità di utilizzare le tastiere e questa tastiera corsair è compatibile quindi non ci sono problemi la collegate e potete utilizzarla ripeto la tastiera è realizzata con materiali di alta qualità è molto pesante rispetto magari molte tastiere economiche anche se il costo di questa tastiera si aggira comunque attorno ai 100 euro circa quindi non parliamo di una tastiera economica ma una tastiera abbastanza insomma costosa non abbastanza ma ma costosa gli switch sono sherry viola se vi interessa saperlo e il telaio è realizzato in alluminio spazzolato anodizzato quindi parliamo di un materiale serio non la solita plasticaccia quindi se siete interessati all'acquisto di questa tastiera potete trovarla sia su amazon che il sito web ufficiale è rivendito rispecializzati quindi collegate la tastiera e siete subito pronti per utilizzarla potete personalizzarla e configurarla al meglio attraverso il software di corsair che va scaricato e installato manualmente tramite il sito web ufficiale dell'azienda